Il tempo sulla nostra regione è dominato dalla presenza di un vasto anticiclone che è presente sul Mediterraneo e su gran parte del continente europeo. Qui l'atmosfera rimane piuttosto stabile, però piuttosto umida. Per sabato prevediamo su pianura e costa cielo in genere variabile, in montagna variabile al mattino per nubi alte, poi sereno, poco nuvoloso in serata. Nelle ore più fredde sarà comunque possibile qualche foschia o qualche banco di nebbia. Temperature massime su pianura e costa attorno ai 13 gradi circa. Domenica tempo più grigio, in particolare su pianura e costa, dove il cielo rimarrà prevalentemente coperto con qualche foschia e forse anche qualche locale più vigine. Il montagna invece direi coperto sulla zona prealpina, sereno invece sulle Alpi, soprattutto a quote superiori ai 1000-1500 metri di quota, dove le temperature saranno decisamente miti per il periodo, con forte inversione termica. Temperature massime attorno ai 10-11 gradi su pianura e costa. Anche per lunedì e martedì tempo stabile, con cielo in genere poco nuvoloso o al più variabile. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.